Oh, oh, stai senza calzini, stai. Tipo, che ti posso dire? Cufo? No, no. Cufo reale? No, eh... Barbagianni? No. La cinetta? No. Una beccaccia! Ma che è la beccaccia di un animale notturno? Io ho visto solo di notte la beccaccia. Adesso lasciami solo, Cristiano. Non io fare una pennechella, va. Vattela in camera tua. Camera mia? Eh? Camera del cane, vuol dire. Ma perché l'hai sbagliato? L'hai sbagliato? No, io sono un animale notturno. Io, tipo, che ti posso dire? Cufo? No, no. Cufo reale? No, eh... Barbagianni? No. La cinetta? No. Una beccaccia! Ma che è la beccaccia di un animale notturno? Io ho visto solo di notte la beccaccia. Adesso lasciami solo, Cristiano. Non io fare una pennechella, va. Vattela in camera tua. Camera mia? Eh? Camera del cane, vuol dire. Ma perché l'hai sbagliato? Ma perché? Ma perché l'hai sbagliato? их Jenni. Ma perché l'hai sbagliato? Hungo... ...